Parla Fanazzurri benvenuti sul canale Notizie di Napoli, andiamo alle ultime dall'Azzurra, ma prima se siete nuovi qui già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Il nome di Marcus Turam è stato accostato più volte al Napoli. Il club partenopeo sarebbe infatti interessato all'attaccante del Borussia Mönchengladbach ma il quotidiano TuttoSport riporta che ci sarebbe un ostacolo complicato da superare. Si tratterebbe dell'ingaggio che gli agenti dell'attaccante avrebbero richiesto. L'Inter non ha ancora perso la speranza di anticipare la concorrenza a gennaio con un'operazione a non altissimi costi per il cartellino, ma dovrebbe convincere Turam e il suo entourage a non aspettare l'estate a parametro zero. La Juventus invece non ha fretta, perché nella settimana invernale l'attacco non sarà una priorità, ma per giugno il profilo del francese continua a interessare, mentre è difficile che il Napoli possa essere in corsa, considerando le richieste di ingaggio degli agenti di Turam. Ehi, fan di Azzurra? Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per i Napoli.